Giorni impegnativi per la Polizia di Stato che nel corso di controlli per prevenire i furti sia presso le abitazioni private che negli esercizi commerciali di Fano ha effettuato due arresti e quattro denunce in stato di libertà. Il primo ad essere tratto in arresto dagli agenti del commissariato diretti da Stefano Seretti è stato un uomo con doppia cittadinanza, Moldava e Rumena, rintracciato nel corso di alcuni controlli svolti presso la stazione ferroviaria. L'uomo è risultato destinatario ad un mandato d'arresto internazionale emesso dalle autorità moldave per aver commesso vari furti in quella nazione. Un connazionale dell'uomo poi è stato fermato e arrestato dagli agenti in quanto è emerso a suo carico un ordine di esecuzione e di espiazione di pena detentiva di quattro anni per aver commesso reati tributari. Le verifiche degli agenti hanno riguardato anche i siti commerciali di Bellocchi di Fano ed hanno permesso di individuare nel parcheggio del centro commerciale Fano Center tre individui, due donne ed un uomo che si aggiravano con fare sospetto all'interno del centro commerciale tra le auto in sosta guardando all'interno degli abitacoli. Una volta individuata la vettura dei tre, una BMW all'interno della quale le aspettava il conducente. I poliziotti sono intervenuti per procedere al controllo ma l'auto è partita a tutta velocità nel tentativo di scappare, rischiando di investire un poliziotto e speronando su un fianco la vettura della polizia. Subito è scattato l'inseguimento che si è concluso alla rampa di accesso all'autostrada dove i quattro, due uomini e due donne di origine rumena, già noti alle forze di polizia, sono stati fermati, denunciati in stato di libertà e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Al conducente è stata poi ritirata la patente per le infrazioni al codice della strada commesse durante il tentativo di fuga, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. I controlli degli agenti del commissariato di Fano hanno riguardato anche gli esercizi pubblici del centro storico, luogo in cui i poliziotti hanno rintracciato un cittadino del Bangladesh e un uomo di origini albanesi, poi risultati irregolari sul territorio nazionale e quindi sottoposti alla procedura di espulsione. L'albanese, che aveva precedenti a carico, è stato accompagnato alla frontiera. Infine, sempre nel centro storico fanese, con la collaborazione della polizia locale, sono state elevate sei sanzioni in via Ugolino de Pili per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-covid del distanziamento davanti ad alcuni esercizi.